Ciao Marcello, ciao a tutti i tuoi ospiti, a tutti i tifosi juventini, un caro saluto a Delio. Juventus-Barcellona. Che ti devo dire Marcello, che ti devo dire Marcello, che ti devo dire Marcello, 3-0 e palla a centro. E dai, e dai che così andiamo bene. Arca miseria. Una partita bella, forse non bellissima, ma bella. Un'altra parte tecnicamente quasi perfetta. Dico quasi perché non mi è piaciuto molto per alcune chiusure in ritardo Bonucci, ma il resto mi dice tutti, 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 Di Bara, anche Iguain, Pjanic, Cellini, chi più ne ha più ne metta. Anche se un plauso lo volevo fare in maniera particolare a Dani Alves, perché secondo me ha giocato bene e ha fatto anche doppia fatica, perché era combattuto dalla voglia di fare strafare e doveva comunque tener conto di quello, secondo me, che il mister gli aveva detto, del ruolo da tenere, della posizione e della testa. Quindi secondo me, per come il tipo, credo che abbia fatto doppia fatica. Quindi adesso andiamo a Barcellona, cerchiamo di chiudere la pratica e anche se dovesse andare male, perché lì qualche tuffatore, qualche bagnino che lì recupera può capitare, io sono comunque contento, contentissimo di questa squadra e sono contentissimo anche del mister. Non ditegli più male, perché, ricordate, ma dal dopo Lippi, ma quante soddisfazioni del genere abbiamo avuto noi? Sì, abbiamo avuto lo Scudetto, Coconte, la Coppa Italia, ma soddisfazioni del genere quante? Io non è che me le ricordo in maniera così lampante, diciamo. Poi, sicuramente adesso, come mi è successo poc'anzi, un quarto d'ora fa, dentro un cantiere, che mi sono incontrato con delle persone, naturalmente la discussione è andata a finire anche sulla partita di ieri. E ho capito che erano interisti e milanisti, insomma, i più esagitati erano quelli, come dire, gli interisti, perché aveva del triplete, il triplete, il triplete. Ho capito, avete fatto questo triplete sette anni fa, quando è stato. Ma ricordatevi anche che l'ultima Coppa dei Campioni, prima quella del 2010, voi l'avete vinta quando è diventato latitante Provenzano. E sono passati 40 anni, lo Stato è riuscito a prendere a Provenzano e voi ancora riuscivate a vincere un'altra Coppa dei Campioni. E quindi, ma i nutri, sto triplete, sto triplete, sto triplete, come i milanisti, sette, 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 sette che cosa? Ma se tu non ci partecipi più, e chissà quanto tempo passerà prima che ci possa partecipare. Ho capito, è andato bene la finale, l'avete vinta e amen. Cioè, che cosa... Ah, anche ieri, Biasin, il Bologna, perché aveva la maglietta rosso-blu, non ha giocato... scusate, non ha giocato bene, non ha... Vabbè, nella settimana di rosso-blu a noi c'è il capitolo del Bologna e a te c'è il capitolo del Crotone. Ma che il Crotone è questo squadrone così forte che aveva fatti secchi, purtroppo io non ci posso fare niente. Ma voglio dire a tutti questi denigratori, come mi dice spesso mio padre, quando si fa qualche discussione, mi dice, ricordati Antonio, che chi guarda la pelle degli altri, la sua, se la mangia il cane. Quindi pensate semplicemente a fare un commento sportivo, a dirlo con la certezza, con la verità che la Juventus con il Barcellona ha fatto una partita, non dove il Barcellona è svuotato, non esiste, non messi svogliato, Neymar dallo psicologo Suarez, che era andato dall'odonto tecnico, la Juventus ha messo in atto un sistema per cui il Barcellona non è riuscito a fare quello che voleva fare. Perché quella partita, Barcellona-Milan finiva 5-0, Barcellona-Inter finiva 7-0, quindi ma a chi le è andate a raccontare queste storielle? A chi le è andate a raccontare? Adesso noi andremo a Barcellona, anzi andremo prima a Pescara, e lì secondo me ci sarà una prova per capire come affronterà la partita del Barcellona la Juventus. perché se andrà lì con grinta e distruggerà gli avversari sportivamente parlando, significa che è prontissima anche per la sfida del Camp Nou. Quindi adesso con estrema calma e tranquillità, Forza Juve! Forza Juve! Ciao!